Rush finale per le norme sul Green Pass, tantissime le ipotesi ma ancora tanta la confusione. Mentre si attendono informazioni più dettagliate della cabina di regia del Premier Mario Draghi, chiediamo agli interessati, e cioè bar, pasticcerie e alcuni commercianti del centro, come e se si stanno adoperando per l'entrata in vigore del Lascia Passare Verde. Io tolgo tutte le sedie da dentro, così la gente si può sederser fuori e si possono sentire tutti uguali. È una cosa in più che dobbiamo fare, oltre a tutto quello che fa parte del lavoro di noi baristi. Molti baristi hanno già scaricato l'applicazione verifica C19, necessaria al controllo del Green Pass dei clienti, ma c'è ancora moltissima incertezza su chi verrà preposto ad eseguire l'accertamento che potrebbe venire meno durante gli orari di punta. Già siamo a corto di personale, i dipendenti che ci sono sono pochi, vengono poche ore, ci vogliono delle deleghe apposta e non so se caricherò di responsabilità a questi miei dipendenti. Per noi non è un problema, se questo serve a evitare le chiusure ci impegniamo, l'importante è che non diventa una cosa troppo complicata da gestire, però per il resto siamo molto disponibili a riguardo. Quindi nel dettaglio, come funzionerà il controllo del Green Pass? L'applicazione si chiama Verifica Covid-19 con la C di abbreviazione, si va a sua via scansione e successivamente si scansiona il QR code, ci viene fuori scritto il nome della persona e la data di nascita. E qua, come vedete, c'è scritto per completare la verifica è necessario confrontare i dati anagrafici con un documento valido di carta d'identità.